ciao a tutti e bentornati e benvenuti nel primo video della tipologia are you kidding me come ho già accennato nel video di miami in questi video vi farò vedere qualcosa di particolarmente astruso tant'è che in questo caso non a questo metodo non panifica completamente il massimo punteggio però il metodo in sé che vi consente di uccidere alma è esageratamente divertente ho già fatto il setup per non perdere tempo utilizziamo come punto di partenza la spiaggia prendiamo con noi il c4 con detonazione a distanza e prendiamo l'anatra e non preoccupatevi nessuna natra vera è stata ferita durante la realizzazione di questo video prenderemo con noi la silver baller questo è un'unione di massimo e quanto la difficoltà è master e oltre a farvi vedere questo metodo per uccidere alma vi faccio vedere anche un altro paio di cose che vi consentono scusate di sbloccare qualche sfida in più se non l'avete ancora fatto bene let's let's go allora prima di farvi vedere il setup per per alma vi faccio vedere un altro paio di cose interessanti e innanzitutto dove potete recuperare l'arma speciale di questa mappa in realtà di speciale non ha un bel niente perché si tratta semplicemente di un pezzo di legno per il quale però troveremo un utilizzo tra breve lo utilizzeremo per spaccare le telecamere in sostanza e dopo di che vediamo se riusciamo anche a portarlo a casa non è possibile purtroppo inserirlo nel vostro inventario globale cioè non è possibile estrarre per così dire l'oggetto dalla mappa però possiamo almeno utilizzarlo per questo scopo dopo di che c'è un metodo per entrare in casa senza utilizzare il lockpick e praticamente c'è una chiave nascosta in questo vaso e che io sappia apre solamente questa porta ho provato ad usarla per aprire la porta d'ingresso la porta chiusa che sta al primo piano ma con quelle porte non funziona rompiamo anche questa telecamera e adesso possiamo fare il setup per alma la cosa è abbastanza intuitiva cioè lo capirete all'istante non c'è niente di impossibile ecco lasciamo in questa zona il c4 e lasciamo nelle vicinanze anche l'anatra di prossimità bene questo è tutto i più svegli sanno già quello che accadrà per farlo dovremmo far correre la cinematica che parte dopo che abbiamo interagito con il computer su questa scrivania e dobbiamo nuovamente recuperare la chiavetta all'interno della camera antipanico e vediamo non ho visto se possiamo distruggere il sistema di sicurezza col legno a quanto pare no potuto usare la valigetta per distruggere il sistema di sicurezza e anche la tannica di propano non ho ancora provato con l'estintore credo che si possa anche con l'estintore bene se voi o meglio tutti hanno visto questa cinematica almeno una volta e sanno già quello che sta per succedere questa non è una cinematica pre renderizzata ma è proprio un filmato in game quindi quello che vedete all'interno di questo filmato è quello che effettivamente fisicamente succede nella mappa e parole povere alma arriverà in macchina e finirà per parcheggiare esattamente sopra gli esplosivi che ho lasciato sulla strada della stradina che porta all'ingresso e quindi saltare in aria nell'esplosione morirà alma morirà orse ne moriranno anche le due guardie che sono in macchina con loro quindi il punteggio ovviamente non sarà quello di assassino silenzioso purtroppo non vedrete lo scoppio ma potete vedere come la macchina di alma parcheggia sopra l'anatra esattamente in questo momento capite che è morta giusto grazie alla killcam che vi mostra almeno il corpo che vola vediamo se riusciamo ad uscire da qui senza farci beccare questa guardia non mi sta facilitando le cose vorrei comunque evitare di ingaggiare uno scontro a fuoco con questi stronzi per questo motivo mi sono preso qualche secondo in più prima di muovermi vuol dire va bene che è andato in vacca il massimo punteggio ma uno scontro a fuoco è decisamente più di quanto io posso accettare hanno quasi beccati ma quasi non significa beccati quindi procediamo e le volte nel video precedente di night call per allontanare le guardie del gommone ho utilizzato le granate a frammentazione in realtà c'è un metodo più ovvio per allontanarle che che non non avevo proprio notato avevo proprio dato per scontato che le granate a frammentazione fossero presente all'interno della casa proprio per questo motivo in realtà c'è la possibilità di far scoppiare questo veicolo perché nel nel retro del veicolo c'è c'è una tanica con qualche liquido infiammabile gasolio benzina prima di sparare alla macchina però vediamo di avvicinarci il più possibile la barca facciamo cadere il legno per un istante e vediamo se riusciamo a colpirne la tanica il problema di questa opportunità è che non sempre questa distrazione fa spostare tutte e tre le guardie vedete che la terza è un po' in ritardo e in determinati casi la terza guardia proprio non si muove mi è capitato che le prime due guardie effettivamente le prime due guardie andavano a indagare mentre la terza rimaneva davanti al gommone e per questa terza guardia usavo il legno e la facevo allontanare con un rumore essenzialmente questa volta non è successo quindi abbiamo estratto anche legno legno farà un figurone nella mia collezione personale molto bene il punteggio preferirei non farvelo vedere sarà due stelle no tre stelle incredibile bene questo era quello che avevo in programma oggi per per hawk bay e grazie per l'attenzione e noi ci vediamo e nel prossimo video